Ragazzi la sentite questa voce? Ebbene si! Su Instagram c'è un fan che mi dice Zerbian guarda che c'è uno che si finisce da i veroi provini Quindi ragazzi quello che farò oggi è veramente divertentissimo Mi fincirò un fan e farò i provini dello Zerbian finto Vedremo le cavolate che si metterà e vedremo soprattutto Roborti si scoprirà che sono io il vero Zerbian Chiaramente ragazzi lui mi sentirà quella voce con cui mi avete sentito voi prima Quindi quella lì un pochino più da bambino modificata Mentre invece voi mi sentirete con questa voce Quindi con la mia Chiaramente vi ricordo anche di iscrivervi e chiaramente attivare la campanellina Perché se arriveremo ai 650 mila scritti E entro alla fine di marzo ragazzi Mi fincirò i capelli con un colore misterioso Quindi vi conviene iscrivervi Infidatevi di tutto questo possiamo iniziare Let's go! Mmm e quindi tu vorresti dirmi che vuoi fare il provino per il team The Blaze? Eh beh ma chiaramente Cioè io sono Johnny4123 Sai chi sono almeno? Non lo so Sono il player più forte d'Italia Come non sai chi sono? Sono famosissimo Sei il più forte d'Italia Dai lo vedremo Quindi tu e Johnny41 Vabbè dai ci sta molto bene con la scritta Blaze Però ti devi impegnare bro Dai andiamo Tranquillo tranquillo Va bene Aspetta aspetta Dimmi soltanto una cosa Vuoi che ti batta fin da subito? Bro se tu mi batti Entri nel team Blaze Ah perfetto Quindi mi sento già praticamente dentro Ok perfetto vai Certo bro Allora bro Ehm vuoi sapere Ma allora Mentre facciamo l'uno di uno Nel frattempo ti faccio un piccolo test Per vedere se sei Diciamo portato per entrare nel team Bro chi è? C'è tutto Allora bro Chi è il migliore youtuber di sempre? Ah vabbè ma è ovvio Ma questo qui sono domande abbastanza palesi Zervia non so se lo conosci Bro sono io bro Cioè ma No vabbè Ok Vero che sei tu Zervia Comunque mi sposta Mi sposta perfetta Allora Beh beh Ovvio che Zervia è un grande Ti vedo un po' bravino eh Ti vedo bravino Dai mi piace Mi piace Beh beh fra ma se ti spiego perché sono così bravo Visto che Zervia Quindi tu sei il mio youtuber preferito E io lo vedo molto Quindi capito Mi piace molto vedere Zervia come gioca Che bello che lui capito È un bel pro player Zervia Cioè non so se sei presente fra Quando fai quelle chili assurde Bro mamma mia Il mio canale è buo Vorrei sapere quanti iscritti ho al mio canale Allora esattamente Te lo dico subito Esattamente 633.000 Vedo che sei bello informato Boh eh Beh chiaramente fra Cioè tu sei comunque il mio youtuber preferito Zervia è veramente un grande Cioè è normale che io sappia tutte queste cose di lui Capisci fra Cioè veramente Zervia è veramente veramente un grande Cioè può guardare Infatti fra c'è lo stimo proprio Cioè veramente Sei proprio Sei proprio assurdo Complimenti No Eh fra ma il grande Zervia mi ha chillato Però non preoccuparti perché siamo più uno per me Eh ho 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 Hai ragione Hai ragione Hai ragione Allora Zervia Ascolta ti volevo chiedere Ma a quanto vogliamo arrivare Cioè a quanto ti devo massacrare Massacrare Allora Mi mandi tutto Boh Devi portare anche rispetto Perché comunque sono uno youtuber famoso E tutto E intanto E intanto Siamo a due a due Quindi devi dimostrarmi di essere un po' io più forte Dai Eh aspetta un secondo Un secondo Se è quel che veramente mi impegno Basta che me lo dicevi subito E mi dici Guarda Kill la vedi Kill lavo subito C'era un vero problema Eh te lo dico E poi faccio così Poi faccio così 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 Faccio così No aspetta Scusa un secondo bro che mi stavo Stavo laggando tutto Fermo fermo Tranquillo 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 Era tutta una tattica quella di farmi colpire Eh c'è lo pensare che Comunque il team blaze È un team per le persone molto forti Beh chiaramente Chiaramente Infatti Oh Hai visto cosa ho fatto eh Attenzione Zerbi è nessuno all'altezza quindi Boh Non è che lo posso dire ancora adesso Ti devo fare anche qualche altra domandina Andiamo in BHE Va bene Andiamo in BHE Il dato fra qui ti ho battuto E non puoi dire niente Qui ti ho battuto Eh bo Uno a zero per te Dai Facciamo le altre prove Devo vedere se sei un player Diciamo A 360 gradi Non è che posso giudicare solo da questo Ah ok Va bene Allora metti un'altra mappa Allora Boh Vediamo un pochino come te la cavi anche qui Perché sai Comunque devi essere veramente Veramente un proprio assurro Oh 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 Ti devo essere di dare Guarda che cavolo appena fatto Guarda che cavolo appena fatto Tu questa cosa sei capace di fare Guarda qua Guarda qua Oh 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 Eh tranquillo bro Guarda qui Guarda qui Che cavolo Oh No 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 Fermo 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 Adesso vi faccio vedere veramente la potenza Di 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 Un fan Che si chiama Johnny Fermo Fermo Oh no 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 Vedi Comunque io bro Sono un pro player Capito Gli youtuber giocano tanto a Fortnite E per questo io sono veramente un pro player Ah Quindi tu pensi che comunque devi essere forte Cioè Zervian è veramente un pro player Giusto Certo bro Certo Non è che faccio entrare tutti nel team Blaze Dai che domande sono Ah ho capito Però guarda che hit ti ho appena dato Qua sentino me l'hai data eh Ascolta Ascolta Non mi devi fare incavolare Perché non ti faccio entrare nel team Di 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 Blaze No 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 Ma come non mi fai entrare nel team Io invece me lo merito il team Blaze Che cavolo Sto per ucciso Hai ragione Hai ragione Dai Ma poi Ascolta un secondo Ma tu non hai la voce di Zervia Non c'hai Infatti mi stavo chiedendo fin da lì Ma come è possibile Ascolta 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 Queste qua sono anche domande private comunque Secondo te Io con tutta la gente che devo fare i provini Magari che arriva quello Che ne so Che mi vuole registrare No 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 Io metto la voce modificata apposta In modo che non possono registrarmi Eh Capito Però sono io Nel senso Ah Sei tu però Hai semplicemente la voce modificata Diciamo Perché hai capito Mi registrano No Ah Qui tu hai capito Metti la voce modificata Perché hai paura che qualcuno ti registri Esatto Esatto Perché comunque Hai capito Io sono talmente tanto famoso Che se mi registrano Sai Possono fare tante visual Dicendo Zervia mi ha parlato No 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 Non se ne parla Io faccio i provini E questo accade Basta Ah Ho capito Cioè Se effettivamente uno famoso Come te Fra Cioè Ci sta Che capito Non Non faccia sentire la sua voce Alle persone No 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 Mi sembra giusto Scusa Guarda quanto sono forte Cioè Solo io come Zervian Potrei Potrei essere così forte Dai Sì sì Sei veramente una bestia Complimenti Oh cavolo Sei veramente veramente forte Cioè Però hai mai Allora ti dico la verità Immaginavo che Zervian fosse così forte Cioè Comunque fra Uno come Zervian Capito Cioè Guarda 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 che Che youtuber fortissimo Che sono Cioè Bato tutto A Youtube Italia Eh no no Però siamo due pari Cioè io non vorrei dire Ma comunque siamo pari E prima ho vinto anche io Quindi Zervian sta perdendo Bro Cioè Devi capire che faccio anche tanti video Non è che posso allenarmi tutto il tempo Dai Ma prima hai detto che gli youtuber giocherò tanti Quindi sono forti Cosa stai dicendo Zervian Ti muotero dai Nel senso Ma Zervian Non puoi dire queste cose Però tu dici cavolate Prima hai detto Gli youtuber sono fortissimi Gli youtuber giocherò sempre E di qua e di là E adesso invece che cavolo stai dicendo Eh Eh no no Ok ok Facciamo così Siamo tra due Arriviamo a quattro Va bene Quindi se vinci questa hai vinto Ok 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 boh Perfetto vai vai Forza 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 Metti qua Sei pronto 3 2 1 Via Let's go Sparte Vieni qua Oh Eh Allora Allora Mi fessi Questo mi è piaciuto buo E io ti direi Che possiamo anche Direttamente andare A vedere come sei in pubblica Perché come Dopo aver visto questo Potresti essere da Blaze Però devo prima controllare Ok va bene Va bene Allora andiamo in pubblica Va bene Abbandona Oh c'è uno qui Zervian Zervian C'è uno qui Non sto per killare Eh ok Bravo bravo Ma vedi Bravo vedi Quasi kill io ne tengo conto Cioè per il team Blaze Però c'è uno che mi spara di in fondo Bank preso Bank preso No 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 Oh l'ho ucciso Zervi Boh Quanto siamo di kill Fammi capire un attimo Sono già due Tu invece quanti ne hai Zervian Io ho anche due kill Va bene Facciamo che se arrivi a 15 kill Sei ufficialmente buono Il team Blaze 15 15 Sì po' fai tutte le registrazioni con tutti Ma sono tantissime 15 kill Bro Aspetta In che senso faccio tutte le registrazioni con tutti È buono Nel senso che facciamo tutti i video insieme Le cose Con tutti gli youtubers Ah ok Spacca Oh Shot ucciso Fra Non ci posso crederci Sulla veramente fortissimo Oh Zervi C'è un altro qui Fermo Zervi Fermo 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 Lo vedo qua Mi ha interscanato anche questa Vieni qua Guarda qua Guarda qua No me l'hanno stilato Zervi Ah boh Cioè io sono zembia Comunque dai Sono fortissimo Dai boh Guarda c'è un'altra persone Fammi le kill Ma mi hai stilato la kill Fermo 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 Questa qua te la concedo boh Ok dai dov'è No mi spavano da destra Da destra Da destra Non preoccuparti c'è un'altra qui C'è un'altra qui Zervi Sono qua sono qua Uno morto Vai 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 Dai a poca vita A poca vita Oh due morti Let's go Il pop è mio Il pop è mio Il pop è mio Ma gli youtubers Hanno sempre la priorità Ma come gli youtubers Hanno sempre la priorità Cosa stai dicendo Zervi Zervi c'è gente Zervi ti sento Aspetta 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 Zervi Aspetta sono qua Aspetta Zervi Sono qui Oh ma per caso Quante kill hai Oh esattamente 5 kill Fermo 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 Lo sento qua sotto Te lo sento qua sotto Te lo sento qua sotto Sta scendendo Mi sa aspetta Boh è qua sotto Oh oddio Oh bro Tranquilla tranquilli Oh Ah Gli ho uccisi due con un colpo Fra Gua mi stai convincendo A far tentare nel team blaze Devo chiedere a tutti gli altri youtubers Bro gli ho uccisi due con un colpo Oh Zervi 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 Uno appena morto qua Killato Killato Aspetta 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 Non c'è un altro Preso 60 Dai 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 Altri 60 Bang Oh C'ho tirato tutti No Ascolta Quante kill hai Quante kill Io però non ci credo eh Ho 9 kill Sei nel team blaze quasi 9 kill Ho 9 kill Una te rubata Io quindi sei a 10 kill 10 kill Boh ma tu sai cosa si inventa nel team blaze Con 20 kill Boh Fra Io sono troppo forte Ti ho anche battuto In creativa Cioè Bello merito Ascolta Ascolta Se tu fai 15 kill sei nel team blaze Se tu ne fai 20 invece Facciamo un video subito Appena finiamo Boh Allora devo fare 20 Per farza 20 Attenzione Zervi Bang No l'ho mancato Non ci posso credere Sparagli 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 Preso 20 20 20 No 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 Blaze Non può fare questi eroi Però non devi No No Aspetta Ma non è che l'ho mancato Cioè Ho detto l'ho mancato Ma l'altra l'avevo preso Capito Dai boh Allora te la conto anche questa Te l'ho rubata Però te la lascio Dai Ah perfetto Bravissimo Zervi 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 vieni qua Zervi vieni qua Zervi qua Adesso 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 Va tranquillo Lo so che sei fortissimo Zervi Non preoccuparti Ma su qui ha poca vita Fra Morto Let's go E c'è un altro Dai boh Dai Quante chi l'hai boh Zervi ha poca vita Zervi ha poca vita Zervi ha poca vita Questo qua 50 bianco bro Morto Boh Nel killato un altro Let's go Quante chi l'hai No 11 Tu Io te ne ho rubate due Quindi hai 13 Fra ti mancano due kill E sei nel team blaze boh Due killa solo Team blaze Sì Oh Zervi è qua Zervi è qua Fermo Zervi ferma Non preoccuparti Zervi 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 ce la puoi fare 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 Zervi Quante kill hai Zervi ti sei fatto uccidere A questo scarsone Se non arrivi a 15 kill Tranquillo Se basta che mi cagli I denti nel team Verbo Fermo Mi cagli Mi cagli Ok ok Non preoccuparti Adesso ti faccio un non-scopo Che veramente Guarda No vabbè basta Adesso è uccido così Basta Mi sono stufato Ho poca vita Zervi Ho poca vita Sto per morire No per favore Non fammi questo Brutto scherzo Bang Vittoria Zervi Zervi Oh mio Dio Oh mio Dio Zervi sono dentro Sono ufficialmente Nel team Adesso te lo dico Allora Io ho visto Che tu comunque Stai molto molto bravo Sia nel box Sia nella BH Ebo Sia nella partita Sono fortissimo Zervi Però Sì Ascoltami Ascoltami Tu sei ufficialmente Nel team blaze Benvenuto Sì Sono nel team blaze Che bello Non ci sono mai stato Grazie mille Zervi Grazie mille Bro Perfetto Ti aspetto Ti aspetto sul mio youtube Mi raccomando Nel senso Poi ci sentiamo su instagram Va bene? Va bene Ci sentiamo su instagram Grande Zervi Grazie Ciao ciao Perfetto Ciao 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 Ragazzi Sono dentro Nel team blaze Ragazzi Ora che sono Nel team blaze Falso Fatevi sapere Se dovete trollarlo Qualche altra volta E ragazzi Vi ricordo Iscrivetevi al canale A un attimo A tua campagna Perché se arriveremo A 600 Ci guardo Gli iscriviti Entra Fino a marzo Mi colorerò i capelli Di un colore misterioso Ragazzi Iscrivetevi Detto questo Ci vediamo Ad un prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti.